Ho studiato a Milano Master in Produzione Cinematografica Televisiva e dopo di che ho iniziato tutta la gavetta da assistente al regista a primo aiuto fino ad arrivare a essere sceneggiatore e poi regista cinematografico. Ho avuto la fortuna di lavorare con registi tipo Olmi, Soderbergh, Banzina, Martinelli, quindi tutta la gavetta per me è stata fondamentale, mi ha permesso di arricchirmi da un punto di vista culturale cinematografico, di esperienza e di vivere il set. Quando sono arrivato a dirigere il mio primo film, avendo vissuto da aiuto regista tanti film, mi ha permesso di sentirmi a mio agio nel dirigere una troupe.